Grazie a tutti. Grazie a tutti. A causa della gestione, a volte diciamo così, un po' troppo disinvolta di questo sacramento che causa qualche volta non poche perplessità nel cuore di qualche fedele, a volte anche un pochino eccessivi, nel senso che per questioni secondarie, di cui in parte tratteremo anche oggi, addirittura qualche fedele dubbio della validità del sacramento. Non è un problema di validità del sacramento, ma indubbiamente anche la retta e degna e corretta amministrazione di questo sacramento fa parte della sua dignità e certamente interviene, forse certamente non in ambito di validità del sacramento, ma senz'altro in quegli altri relativi alla fruttuosità. Io non ripeto sempre le stesse cose, ragazzi e ragazze carissimi, voi sapete che le catechesi che imposto in questa sede sono cicliche, quindi è come un puzzle che lentamente si va componendo e quindi ovviamente i riferimenti che facciano le catechesi inoltrate, diciamo così, presuppongono l'ascolto delle prime, quindi quando parlavo di efficacia, validità e fruttuosità dei sacramenti spiegando la distinzione, se dovessi ripetere ogni volta queste cose dopo diventerebbe estremamente difficile procedere, quindi per chiarimenti su questo aspetto che ho appena accennato, occorre risentire le prime catechesi di questo ciclo per comprendere che differenza c'è dalla validità, efficacia e fruttuosità di un sacramento, che non sono affatto la stessa cosa e che pur a livelli e gradi diversi, è chiaro che il più importante è la validità, sono tuttavia però presenti nella celebrazione e l'amministrazione di ogni singolo sacramento. Ora, è il caso forse dal momento che la lettura dei canoni è stata fatta, credo tre puntate fa, o forse addirittura quattro puntate fa, essendo questi argomenti abbastanza specifici, rileggere prima di affrontarli i canoni, che sono diciamo quattro, se non ricordo male, quelli che sono inerenti a questo tipo di problematica e poi commentando questi quattro canoni vedremo approfondendo questo aspetto dell'importanza della potestà sacerdotale che abbiamo già visto in parte nella puntata precedente della scorsa volta, ma che oggi completeremo e quindi chiuderemo, se Dio vuole, il discorso sul sacramento della penitenza. Allora, questo sacramento può essere amministrato esclusivamente dal sacerdote, e voi sapete che i luterani affermavano che la confessione si fa direttamente a Dio oppure addirittura in qualche circostanza per umiltà si possa fare in pubblico, ecco, anche fedele a fedele oppure fedele a pastore in presenza degli altri, insomma per maggiore umiltà ma non certamente per struttura del sacramento. Allora, il Consiglio di Trento dice Carone numero 6 Canone numero 10 Se qualcuno dirà che i sacerdoti che sono in peccato mortale non hanno il potere di legare e sciogliere o che non i soli sacerdoti sono i ministri dell'assoluzione, ma che a tutti i singoli fedeli cristiani è stato detto qualsiasi cosa avrete legato sulla terra sarà legata anche in cielo e qualsiasi cosa avrete sciolto sulla terra sarà sciolta anche in cielo e a quelli a cui avete rimessi i peccati saranno perdonati e a quelli a cui non li avrete rimessi saranno non rimessi e che in virtù di queste parole ciascuno possa perdonare i peccati, e cioè i peccati pubblici con la sua riprensione, se colui che viene ripreso c'è per il buon animo, i segreti con la confessione spontanea sia anatema. Poi commenterò nel dettaglio questo canone. 11. Se qualcuno dirà che i vescovi non hanno il diritto di riservarsi dei casi, se non in ciò che riguarda la disciplina esterna e che quindi la riserva dei casi non impedisce che il sacerdote possa assolvere validamente dai casi riservati, sia anatema. 15. Se qualcuno dirà che le chiavi sono state date alla Chiesa solo per sciogliere e non anche per legare, che quindi quando i sacerdoti impongono delle penitenze a quelli che si confessano agiscono contro il fine delle chiavi e contro l'istituzione del Cristo e che è una finzione che rimessa la pena eterna in virtù delle chiavi e che rimanga ancora la pena temporale da scontare, sia anatema. Attenzione, attenzione. Sono canoni importantissimi che ci consentono di chiudere il cerchio e su questo sacramento dando dei riferimenti assai importanti. Il numero 6 lo rileggiamo insieme. Se qualcuno negherà che la confessione sacramentale sia stata istituita da Dio o che sia necessaria per volere divino. Primo punto. Quindi, la confessione non è un optional o un qualcosa che si può scavalcare quando è necessaria. Se io ho commesso un peccato mortale e voglio ottenere la remissione dei peccati, mi devo confessare per volontà di Dio. Non posso non farlo. Né posso dire intanto mi faccio la comunione e poi mi confesso e né, siccome c'è il caso limite, d'accordo, che se una persona ha impossibilità da confessarsi e si pente, può sperare nella Divina Misericordia. Ma questo è un caso limite. Attenzione sempre a non usare i casi limite come esempi per la condotta ordinaria. Siccome in teoria, in un caso limite, Dio perdona i peccati anche senza confessione a chi è sinceramente contrito, e questo è vero, allora, se lo fa nel caso limite, lo riteniamo anche nel caso ordinario. Guardate che questo è stato il sistema con cui, per esempio, in Italia, fu fatta la legge sull'aborto. Perché? Perché venivano presentati e, come dire, sbattuti in faccia alla pubblica opinione, i casi limite. Ah! Non possono fare l'aborto. Quelle povere donne che sono state stuprate barbaramente da dieci animali messi insieme e gli nasce un figlio e quella si deve pure tenere quel figlio lì. Adesso, a prescindere che moralmente parlando, se lo deve tenere comunque quel figlio lì. Però, capite, questo è il caso limite, d'accordo? Cioè, è il caso estremo, d'accordo? In cui anche chi avesse delle riserve sull'aborto gli potrebbe venire pensato, dice, eh no, ma quel caso lì, è che se te ne avviene il ragazzino, sta boraccia. Capite? E attraverso questa pressione sull'opinione pubblica è stata poi fatta entrare, capite, la legge sull'aborto. Il modo con cui, un famoso discorso fatto tante volte, è andata diffondendosi in giro la comunione in mano, è stata questa, d'accordo? Da una concessione fatta a suo tempo da Paolo VI, prendendo una scelta pastorale opinabile, perché trovandosi dinanzi a una situazione di disobbedienti di fatto, per cercare di farli rientrare e di arginare, fece delle dettagliatissime e eccezionalissime e circostanziatissime concessioni, a partire dalle quali, poi, se questo è lecito, è lecito sempre, dovunque e comunque, è successo tutto quello che è successo. Capite? Guai alla prassi e alla dialettica del caso limite. Guai! Quindi, se tu hai commesso un peccato mortale, ti vai a cercare un confessore, anche se fosse leggermente scomodo o incomodo. Ecco, non ci stanno santi, è volontà di Dio. Secondo aspetto, o dirà che il modo di confessarsi segretamente è al solo sacerdote? È strano l'istituzione al comando del Cristo. Attenzione, confessione segreta al solo sacerdote. Cosa vuol dire confessione segreta? Segreta vuol dire che la confessione deve essere auricolare e assolutamente riservata. Segreta vuol dire anche, stare attenti, non soltanto, adesso lo vedremo bene, che sulla confessione si deve estendere un velo di assoluta segretezza, ma anche che è diritto sacro santo del fedele confessarsi nel confessionale con la presenza della grata. Perché se io non voglio essere riconosciuto, come è mio diritto, questo mio diritto deve essere tutelato. Perché l'essenza della confessione non è che il sacerdote mi guardi in faccia, né che mi riconosca, né che mi riconosca, né che mi riconosca, né che mi riconosca, ma è che ascolti con le orecchie i peccati che io ho da confessare, come se non mi avesse mai visto e conosciuto. Allora, a questo proposito, alcune puntualizzazioni. La confessione oricolare al sacerdote vuol dire che adesso, da qualche parte in giro, c'è un gravissimo abuso su un altro caso limite. Se voi aprite il rituale della penitenza attuale, che cosa ti dice? Che in casi del tutto straordinari ed eccezionali, ma del tutto straordinari ed eccezionali, sapete che significa? Significa, per esempio, sto su una nave e c'è un incidente sulla nave, quindi stiamo a ridosso di un pubblico disastro. Oppure sto sull'aereo, d'accordo, e a un certo punto il pilota dice atterraggio di emergenza, c'è il pericolo che precipitiamo. Cioè, situazioni limite di questo genere. Dice il sacerdote può far fare un atto di dolore a tutti e impartire la soluzione collettiva, ma in circostanze del tutto straordinarie. È chiaro che... Cioè, c'è un minimo di buonsenso, ma ci dovrebbe neanche essere bisogno che la Chiesa facesse una norma del genere. se sta a fondare una nave non mi posso mica ascoltare le confessioni di mille persone se io sto là sopra, no? È ovvio questo qui. Allora, però, è chiaro che questa è l'evidente eccezione. Allora io dico, ragazzi, fate un atto di... Può essere che moriamo, tutti quanti, beati a voi che ve la posso dare io la soluzione, a me me la può dare nessuno, io devo farmi un atto di dolore senza soluzione. Facciamo tutti quanti un atto di dolore e io vi assolvo collettivamente da tutti i peccati. Ma questo è chiaro che si può fare. Ma questo è l'assoluta eccezione. perché le confessioni collettive non si fanno. Le assoluzioni, soprattutto collettive, non si possono fare. Quindi non basta dire il confesso che si... perché la confessione generale con l'assoluzione generica noi la facciamo ogni volta che andiamo a partecipare alla Santa Messa. Ma quella vale per i peccati e per i difetti quotidiani, per purificare un pochettino la nostra anima prima dell'ascolto della parola di Dio e poi, come era nella plessa antica, si faceva il confito e ero anche prima di fare la comunione. Gli aveva un'altra bella ripulita. Prassi, ahimè, troppo frettolosamente archiviata e messa in soffitta. Perché è una prassi, a mio avviso, molto salutare. Comunque, pazienza. Quindi, le assoluzioni collettive non si possono dare se non in casi del tutto straordinari ma sono segnalati tantissimi casi di abusi di sacerdoti che è mossi da un malsano buonismo. Adesso vi assolvo a tutti così facciamo subito la comunione. Un prete non ha il potere di fare una cosa di questo genere perché va direttamente contro la volontà di Dio. Quindi un prete che agisse in questo modo sta facendo solo che una pagliacciata, non sta facendo nulla di valido. nessuno si illuda che è assolto dai peccati se è partecipato a una cosa di questo genere. Secondo, la confessione auricolare è segreta. Significa che è bandita ogni forma di confessione in qualche modo, in qualunque modo pubblica. E qui devono fare attenzione alcuni ambienti ecclesiali. anche quando fosse diciamo così fatta in forme extrasacramentali. E chi può capire capisca dice il nostro Signore Gesù Cristo. Perché la riservatezza su questo punto è assoluta. I peccati non vanno confessati in pubblico e non vanno sbandierati in pubblico. se non in casi del tutto straordinari ed eccezionali. Guardate ragazzi e ragazze io ho accennato qua e là parlando di questo argomento alla storia del sacramento della penitenza dicendo che nei primi secoli fino al VI-VII secolo la disciplina della penitenza si chiamava penitenza pubblica. Attenzione, ma penitenza pubblica non perché il penitente confessava pubblicamente i peccati perché i peccati li andava a dire in privato al Vescovo. Era pubblica la penitenza cioè il percorso penitenziale cioè si sapeva e tu venivi proprio ascritto ad un ordine che si chiamava l'ordine dei penitenti che tu l'avevi combinata grossa già questo è una deroga rispetto alla disciplina attuale ma nessuno sapeva cosa avevi fatto. Nessuno. E né che tipo di penitenza stavi facendo? Si sapeva che tu eri un penitente quindi finito la preghiera dei fedeli uscivi dalla messa non potevi stare rimanevi fuori a pregare chiedevi a chi usciva dalla messa di pregare per te e poi venivi solennemente riammesso terminato il percorso penitenziale con l'assoluzione e poi rientravi dentro la comunità questo era ma mai la confessione in pubblico mai ecco perché non si fa la confessione in pubblico per due motivi uno perché è un'umiliazione troppo grande troppo già è troppo capite perché Dio non chiede mai troppo Dio chiede il giusto vuole che tu per essere assolto dici due peccati per specie numero e circostanza basta e avanza che ti vergogni a dirgli davanti a un suo ministro basta e avanza l'importante è che almeno davanti al ministro ti umili bene cioè nel senso che li dici come abbiamo tante volte detto tutti è bene ma non devi dirgli davanti a tutti primo perché questo è andarsi a mettere sotto terra secondo perché andare a rischiare come una sorta di linciaggio perché se chi ti ascolta è un fuori di testa e lo va a dire in giro capisci magari tu hai tradito tua moglie e lo sa tutto il circondario terzo proprio l'esempio che ho fatto perché alcuni peccati per nessun motivo devono essere resi pubblici per nessuno cioè mi spiego il peccato di adulterio è un peccato gravissimo e qui se c'è qualcuno sposato che mi sta ascoltando non monti subito su tutte le furie cerchi di capire d'accordo ora se è possibile è meglio che questo peccato rimanga segreto d'accordo cioè se una si è impazzita e ha fatto una scappatella con uno o viceversa e la moglie o il marito non lo sa allora tu me lo vieni a dire a me poi te fatti ci penso io a fatti fare la penitenza non ti preoccupare ma la penitenza la devi fare tu non la devi fare tua moglie o tuo marito che se vai a sapere una cosa del genere soffrirà tantissimo enormemente e metterai a repentaglio il matrimonio perché se quello non ci riesce a perdonarti come poi vedremo quando parliamo del sacramento del matrimonio potrebbe anche interrompere la convivenza potrebbe succedere un macello che non finisce mai d'accordo allora non quindi primo perché alcuni peccati non vanno resi pubblici per il pericolo ma secondo e quarto voglio dire perché non c'è nessuna cioè i peccati non vanno resi pubblici cioè non c'è niente di edificante in un peccato zero d'accordo per cui vanno resi pubbliche eventualmente le opere buone chiaramente non le proprie quelle fatte dagli altri ma non i peccati di peccati non dovremmo neanche parlarne non dovremmo specialmente di quelli gravi quindi su questi va messo il velo pietoso del silenzio già è troppo che li sente il sacerdote va sicuro che è troppo che il santo curato d'Arsa diceva mamma mia guarda io lo faccio volentieri il ministero di confessore ma me lo risparmierei molto volentieri ti senti tutte queste cose dalla mattina alla sera che poi te le prendi pure tu tra l'altro le conseguenze parte delle conseguenze di quel male ma non ha nessun senso andarla a sbandirare in giro e sulla confessione nell'attuale disciplina dirige non soltanto il segreto assoluto perché un sacerdote pazzo che dovesse andare a dire quello mi ha detto in confessione X è immediatamente scomunicato l'ate sentenze subito che è la violazione diretta del sigillo sacramentale ma ci può essere anche una violazione indiretta del sigillo sacramentale oppure non lo so un sacerdote sempre fuori di testa che confessa una persona subito a vedere la confessione ascoltato la confessione esce dal confessionale e comincia a fare delle mimiche facciali o gestuali purtroppo via radio non possono essere diciamo espresse tali che facciano capire chi lo guarda che ha confessato un grandissimo peccatore non è violazione diretta ma è violazione comunque della confessione se leggete i libri dei raccomandazioni dei santi io per esempio quando qualcuno mi viene a chiedere ma che tizio si è confessato con te la mia risposta e io lo debuggio non dico mai è non lo so non è né sì né no perché questa è una domanda che tu non puoi fare perché tutto quello che avviene in sede confessionale per quanto mi riguarda io non lo so per nessuno fuorché per il padre eterno pensate che io non lo so nemmeno per il penitente a me da molto fastidio è successo qualche volta quando qualche penitente non lo so per esempio si scorda la penitenza e mi contatta oppure mi fa un messaggio oppure così fuori di sede confessionale per dire padre ma che mi avevi detto di fare perché finita la confessione quello è un mondo morto ok capite non c'è più cioè è talmente tanto grande laurea di riservatezza che non c'è più capite cioè ogni riferimento personale anche minimo scompare è chiaro che io confessando faccio tanta esperienza quindi l'esperienza acquisita è in confessionale certo che me la porto dietro d'accordo e mi fa crescere d'accordo però tutto quello che attiene alla relazione confessore penitente alla persona è morto comincia quando si fa il segno della croce e finisce quando viene detto va in pace e è finito quindi è molto da biasimare il comportamento di questi sacerdoti che su questo sono un pochino leggeri a noi il vescovo che mi ha ordinato sacerdote mi diceva sempre tu non devi dire neanche se una persona si è venuta o non si è venuta a confessare se vuole lo può dire lei ho fatto una bellissima confessione con Don Leonardo vatti a confessare cioè io non posso neanche dire a un penitente di tornare a confessarsi da me non posso non posso obbligarlo né posso dire ad una persona fuori dal senso vieti a confessare no posso invitarla a confessarsi e da chi vuole sarà lei poi a decidere se è opportuno confessarsi da Don Francesco da Don Filiberto da Don Nicola da Don Leonardo o da Don chi te pare ecco cioè la disciplina è molto rigida su questo punto qui perché la coscienza e la persona del penitente è sacra e inviolabile quindi se il sacerdote voi sapete c'è una barzelletta deve essere molto prudente deve essere d'accordo cioè se ogni tanto fa riferimento a qualche esperienza maturata in sede confessionale cosa che si può fare in maniera assolutamente generica è come dire praticamente evanescente per quanto sia generica quindi non dando nessun particolare perché ci sta la barzelletta lo sapete no perché poi c'è la violazione diretta del sigillo barzelletta è questa qui un prete fa il venticinquesimo del sacerdozio o il cinquantesimo mi ricordo e al paese gli fanno la festa e a un certo punto finita la festa gli fanno padre ci racconti l'esperienza più significativa della sua vita ministeriale e questo vi è parte l'esperienza più significativa sicuramente è stata la mia prima confessione cioè io dico appena ordinato sacerdote tutto contento c'è la prima messa dopodiché entro in confessionale e il signore mi ha riservato una sorpresa cioè che la prima confessione un trauma cioè quello che è entrato me l'ha detto da tutti i colori tradimenti della moglie bestemmie ma troppo una cosa pazzesca veramente la grazia di dio mi ha aiutato perché io non sapevo che fare insomma però veramente abbiamo cominciato subito in quarta la festa continua e a un certo punto si susseguono gli ospiti a un certo punto varie personalità prefetto eccetera eccetera a un certo punto viene il momento che le autorità del paesino rendono omaggio al parroco insomma al parroco nel cinquantenario comincia a parlare il prefetto al padre poi comincia a parlare il capo dei carabinieri eccetera eccetera a un certo punto parla il sindaco e comincia a slotare il parro dice io per venire a questa cerimonia avrei fatto carte false guardate perché ci tenevo tantissimo eccetera eccetera e poi permettetemi una confidenza vi pare che io non avrei partecipato al cinquantesimo di colui di cui io sono stato il primo penitente non so se avete capito quindi quel parroco è stato molto imprudente d'accordo perché dire il primo penitente d'accordo è una circostanza molto particolareggiata poi dire che aveva tradito la moglie quindi vuol dire che era un uomo quindi è troppo d'accordo ecco meglio non dire niente se avete capito raccontano un'altra esperienza diciamo così edificante ecco ma non quando si racconta un'esperienza edificante di cose delicate non devono essere fornite circostanze perché la domanda poi c'è il professore di sacramentale dice è violazione del sigillo sacramentale oppure no è insomma non c'era la volontà quindi non è la violazione diretta quindi non c'è la scomunica alla desentenzia però è violazione indiretta e si è esposto delle sanzioni giustamente canoniche perché tu non puoi essere così leggero insomma ad andare a rischiare di tradire il segreto di un penitente quindi questo basti un'altra cosa che fa capire la segretezza se il sacerdote non può usare delle cose sentite in confessione per esercitare la sua autorità in foro esterno si dice cioè viene un ragazzo che deve fare la cresima d'accordo e viene a confessarsi prima della cresima magari facendomi vedere che fa dei peccati gravissimi d'accordo e dei quali è ben poco pentito io non posso in base a questo proibirgli di fare la cresima o rimandargli è come se non lo sapessi ugualmente supponiamo che io prima della messa sto al confessionale ascolto una confessione e magari la persona che mi sta davanti non usa la grata e si fa riconoscere quindi perché nel confessionale che ho io c'è la grata che è fino a tre quarti diciamo così quindi chi vuole essere diciamo così tutelato nella privacy si mette lì dietro e io non vedo in faccia nessuno chi non vuole si sposta dall'altra parte apre lo sportello e si fa vedere in faccia supponiamo che io lo guardo in faccia e che questo penitente X mi prospetta una situazione tale che non è possibile assolverlo subito ce ne sono tante oggi e io gli dico guarda fratello mio guarda figlio mio guarda figlia mia e ci preghiamo un po' sopra e ci rivediamo tra qualche giorno d'accordo? finisce la confessione comincia la messa questa si presenta a ricevere questa o questo si presenta a ricevere alla comunione io la comunione gliela devo dare e senza battere ciglio senza farne nessun tipo quello ha fatto una comunione certamente sacrilega d'accordo? ma mentre in un caso di pubblico scandalo tipo viene a farsi la comunione un convivente un divorziato o una persona che sta in abiti proprio assolutamente improponibili quindi sono cose che sono note agli occhi di tutti ora io in quel caso ho il dovere di negargli la comunione ma in questo caso se lo faccio vengo scomunicato perché è infrazione del sigillo sacramentale perché io so che quella persona non si può fare la comunione perché l'ho confessata io e fuori della confessione quella cosa è come se non la sapessi quella è un fedele comune che viene a farsi la comunione come tutti gli altri non so se capite questa è la disciplina del sacramento e capite perché la chiesa l'ha blindato in questo modo proprio per come dire liberare il penitente da ogni forma di remora e di imbarazzo perché in confessione tu le cose le devi tutte bene quindi figurate se stanno nelle mani di un matto che poi le va di in giro o che anche in forma minima fuori di quel contesto ti mortifichi in un minimo modo vi faccio un altro esempio supponiamo che io confessi un giovanotto che ha problemi con la purezza non è che io poi lo prendo dieci giorni dopo gli do la pacchetta sulle spalle incontrando lo per strada e dire allora come va meglio con la purezza non posso farlo assolutamente una cosa di questo genere sarebbe una cosa gravissima finita la confessione se ritorna in confessionale a riaprire un'altra confessione io lì posso dire allora come è andata ma capite il confessionale è un mondo a parte per questo ecco dice la stola io per esempio sempre almeno la stola la porto sempre salvo circostanze del tutto straordinarie vi faccio subito un esempio io sono stato la settimana scorsa in campo scuola estivo con i giovani a 2500 metri a fare l'escursione è chiaro che quando andai a fare un'escursione io stavo vestito come loro avevo la tuta se un giovanotto gli viene l'ispirazione capite che un giovanotto può essere di farsi una chiacchierata o addirittura di confessarsi a 2500 metri e io sto vestito così e non ce l'ho la stola allora questa è circostanza eccezionale perché avere la stola non è condizione di validità assoluta del sacramento ma è chiaro che fuori di questo ben determinato contesto per esempio quando stavamo nella casa come dire dove abbiamo alloggiato se i ragazzi volevano venire a parlare con me o a confessarsi io stavo in talare è cotta poi se mi dicevano voglio confessarmi mi mettevo la stola se invece volevano semplicemente chiacchierare mi toglievo la stola sono vie e vegge i ragazzi miei quindi ma la stola significa proprio che tu dai al penitente la comunicazione che si entra in un altro mondo questo è un sacramento blindato quindi stai tranquillo che di tutto quello che tu mi dici non ne farò nessun uso di nessun modo fuori di questa sede né con te né fuori di te e addirittura pensate quanto si estende cioè non soltanto non si possono rivelare i peccati e l'identità del penitente ma se il penitente fa riferimento a fatti e situazioni in sede confessionale io non posso intervenire anche che cioè per esempio se mi racconto un peccato che ha fatto non lo so a causa di una situazione che mi coinvolge per esempio no magari qualcuno ha parlato mi racconta qualcuno ma mi ha calunniato in giro d'accordo allora dice allora io padre ho giudicato quella persona perché che devo fare gli vogliono sentire dire di cose grosse quanto una casa contro di lei quella persona si chiama X io non posso farci niente capite anche se fosse una calunnia gravissima da cui io avrei il dovere di difendermi se questa persona la racconta in confessione io non ci posso fare niente posso solo chiedere durante la confessione dico guarda ti prego gentilmente finita la confessione raccontami nuovamente questo episodio oppure raccontami in un altro momento perché se no io non posso fare niente e se quello dice nono padre mi dispiace ma io non ci voglio mettermi in mezzo abbia pazienza io mi sto confessando i peccati miei ma non voglio essere coinvolto io non posso fare niente capito quanto è grande la segretezza e la diversa delle riservate altro che ecco e il concilio specifica come ha sempre usato la chiesa cattolica fin dall'inizio perché anche quando la confessione era pubblica almeno la riservatezza e la segretezza assoluta d'accordo circa il contenuto della confessione è stata sempre tutelata e garantita cioè la confessione è stata fatta sempre al sacerdote il vescovo non è altro che un sommo sacerdote quindi è il terzo grado dell'ordine sacro è più grande di un semplice sacerdote ma è un sacerdote a differenza dei diaconi che non hanno titoli né caratteri sacerdotali quindi detto questo la segretezza giunge anche alla privacy e alla riservatezza del penitente non è affatto necessario guardarsi in faccia in sede confessionale non è affatto necessario ogni tanto scherzo da qualcuno dice posso aprire la grada dico se vuoi vedere sta brutta faccia apri pure insomma sappi che non è affatto necessario e io in ogni caso questo ve lo dico tranquillamente evito sempre di guardare in faccia una persona mentre si sta confessando sempre perché la metti in imbarazzo mentre se parlo con una persona o se una persona si racconta un pochino io ho bisogno proprio di guardarla in faccia perché guardando bene gli occhi si capisce quasi tutto insomma di quello che c'è dentro un'anima ma durante la confessione no perché durante la confessione per questo io d'accordo che quando le persone mi chiedono di confessarsi fuori dal confessionale io ricevo le persone in ufficio no ecco ma se si confessano che mi stanno davanti io mantengo lo sguardo basso ordinariamente se non quando anche in sede di confessione capisco che la persona sta facendo una parentesi che mi chiede una cosa che mi chiede un consiglio ma quando sta confessando i peccati io tengo gli occhi bassi d'accordo perché è un problema di sano e santo pudore ecco vi dico un'altra cosa ecco perché la grata se una persona cioè voi capite che io qui sto in parrocchia i parrocchiani mi conoscono io li conosco con alcuni ho dei rapporti come dire di amicizia sacerdotale di collaborazione nella vita parrocchiale no quindi ci potrebbe essere come dire una certa da parte di qualcuno remora causata proprio da questo nel senso che ma mi vergogno non ha disste cose proprio a Don Leonardo ecco discorso questo qui che anche questo è tutelato perché? perché se entra in confessionale una persona che tu dalla voce la riconosci ma se questa persona si mette dalla parte della grata e mi fa chiaramente capire che non c'è nessuna intenzione di essere riconosciuta e non ci vuole tanto io in confessionale non solo che faccio finta di non conoscerla e non si offende per niente perché lei vuole che io faccia così ma io devo fare finta di non conoscerla per liberarla dall'imbarazzo che se si vuole confessare con me perché mi riconosce per dire la qualità di buon confessore ma ha vergogna perché oltre che confessorio sono anche parro e quindi sono anche a stretto contatto con lui deve essere completamente liberata da questo quindi se anche si fa guardare in faccia è ovvio che tutto quello che accade lì dentro lì dentro accade lì dentro muore ed è mia grave responsabilità farlo percepire chiaramente con tutti i comportamenti che ho fuori del confessionale ma se la persona si mette dietro la grata e vuole dentro anche il contesto sacramentale non essere riconosciuta e non essere trattata come collaboratrice o come amica io gli do del lei d'accordo e faccio finta di non conoscerla quindi perché queste sono cose importantissime io personalmente tra l'altro la confessione boia proprio per questi motivi si fa in ginocchio non si fa seduti io disapprovo in grado sommo e risoluto questo non lo dico tranquillamente la trasformazione della confessione in una chiacchierata da salotto d'accordo seduto io seduto tu oppure in una chiacchierata cioè in una specie di paraseduta psicologica d'accordo che uno comincia a raccontare la vita e le proprie problematiche cioè personalmente in qualche circostanza io ho dovuto esortare certo uno all'inizio magari capite se sta davanti una persona che non conosci che non hai mai visto comincia a chiacchierare e uno non l'aggredisci subito dicendo gli dice vabbè diamogli un po' di tempo per capire ma se continua a chiacchierare per dieci minuti un quarto a un certo punto io devo dire senti figlio mio senti figlia mia momento ci siamo fatti se tu devi confessare o tu devi fare una chiacchierata perché se ti vuoi confessare ho capito il contesto adesso cominciamo a fare la confessione altrimenti tu stai abusando di un sacramento stai compiendo anche se non ti rendi conto un atto di differenza di un sacramento qui non stiamo facendo una chiacchierata questo è un sacramento in cui tu ti umili per questo che stai in ginocchio davanti a Dio attraverso il suo ministro e con sincero pentimento confessi le colpe che hai fatto al di là dell'elenco dei peccati tu puoi parlare un pochino solo per dare qualche piccola circostanza e per far capire quando è necessario un contesto o un altro contesto basta però non mi devi raccontare tutta la vita tutti i affari tuoi perché questo è un sacramento che serve all'accusa dei peccati e alla remissione di essi a direzione spirituale se ti serve un'altra cosa e anche quella la fatta in un certo modo perché non è pure la direzione spirituale con racconto insomma tutta quanta vita, morte e miracoli minuto per minuto e parola per parola no la confessione spirituale anche va fatta in un certo modo però scusate la direzione spirituale ecco però vedete trattandosi di un sacramento trattandosi di un sacramento il fatto che il sacerdote non stia in stato di grazia canone numero 10 non influisce minimamente sulla validità del sacramento cioè attenzione sulla validità cioè se il confessore ascolta la tua confessione ti dice di fare l'atto di dolore e ti dà la penitenza sacramentale e ti assolve che lui prima della confessione abbia bestemmiato non gli fa né caldo né freddo da un punto di vista di validità del sacramento d'accordo quindi se è uno che ha il ritegno d'accordo di non mettersi poi a fare grandi ammaestramenti non essendo in stato di grazia adesso chiarisco che significa questa cosa qui ma si limita ad ascoltare la confessione ti dà pure una penitenza adeguata ti fa dire l'atto di dolore perfetto il problema però non è sulla validità ma è su altro che è sulla fruttuosità di un sacramento allora rimando sempre alle prime catechesi il sacerdote nel sacramento non è soltanto come dire giudice giudice che quindi pronuncia l'abbiamo visto l'altra scorta la sentenza costitutiva di assoluzione e quindi nel momento in cui dici io ti assolgo i tuoi peccati in nome del padre del figlio dello spirito santo tu sei realmente sciolto dai peccati commessi e le colpe ti sono rimesse ma è anche allora numero uno per applicare questa funzione per pronunciare questa sentenza deve formulare un giudizio quindi deve avere lui stesso chiari quali sono i peccati mortali e non mortali deve verificare che li hai confessati bene se sei pentito ecco su queste attività non c'è nessun automatismo per questo dipendono dalle disposizioni soggettive del sacerdote cioè da quanto il sacerdote è preparato da quanta teologia morale ha studiato da quanta esperienza ha maturato e certamente anche da quanto sta in grazia per la gestione di alcune situazioni perché se tu stai in grazia di Dio dentro il tuo cuore ti parla lo spirito santo se tu stai in grazia di satana dentro il tuo cuore lo spirito santo non ci parla se non con quella flebilissima voce che comunque rimane per la grazia di stato che uno ha è che si perde totalmente veramente quando ne fai proprio quanto è Carlo in Francia d'accordo però per esempio anche sulla funzione di maestro cioè tu trovi un sacerdote scellerato magari l'hai fatta grossa guarda che questo è tutti i giorni ti dirà ma questo non è niente non ti preoccupa ecco quindi certo che quando poi ti assolvi sei assolto ma se tu te ne esci da quella confessione dicendo ah vabbè pensavo di aver fatto chissà che e era chissà che però mi ha detto che non è niente quindi meglio così la prossima volta arrivarci a due volte è chiaro che quella singola confessione ha prodotto l'assoluzione dei peccati ma i danni che produrrà a medio e lungo termine sono devastanti sono capite per cui la chiesa ha sempre difeso con Sant'Agostino l'operatività dei sacramenti ex opera operato quindi indipendentemente dallo stato di grazia del ministro tuttavia lo stato di grazia del ministro ha sempre affermato che non è del tutto ininfluente sul piano della fruttosità cioè dei frutti che quel sacramento produce abbiamo detto anche per la messa la messa celebrata da padre Pio certamente è differente dalla messa celebrata perdonatemi da un prete che ha commesso peccato di pedofilia senza confessarsi sono valide tutte e due ma certamente il nostro signore non è molto contento di scendere nelle maie di quel sacerdote sicuramente era molto più contento di scendere nelle maie stigmatizzate di San Pio e quindi il compiacimento che Dio ha di quell'offerta sacrificale rispetto a quell'altra è infinitamente differente e quindi le benedizioni i frutti che manda in conseguenza di quella messa o di quell'altra sono infinitamente differenti ferma ferma restando la perfetta identità da un punto di vista di validità dell'una e dell'altra celebrazione spero di essere stato chiaro e il canone numero 11 dice che ci sono alcuni peccati riservati stati attenti e questa è produttora ai vescovi e che possono perché sono riservati perché come vi ho detto anticamente la confessione era riservata ai vescovi ma tuttora oggi io ve lo dico se sono stato ordinato sacerdote tu vieni ordinato sacerdote ma non puoi subito confessare in virtù del sacramento stesso devi avere la licenza di ascoltare le confessioni da parte del vescovo cioè per esempio il vescovo che mi ha ordinato non dava subito la licenza di ascoltare le confessioni io sono stato ordinato l'8 maggio ma mi ha dato la licenza di ascoltare le confessioni 20 giorni dopo il 28 maggio situazione molto imbarazzante perché poi la gente non lo capisce questo fatto qua allora io ho stato ordinato prete ma mi fa fare lo stesso peccato del parroco da prima c'era un sacco di gente che desiderava confessarsi col sottoscritto e mi ha confessato e dico non lo posso confessare ancora non è un problema che faccia un peccato non ho ancora l'abinitazione a confessare questo perché perché anticamente la disciplina anche la penitenza così come oggi la cresima è riservata al vescovo la differenza che mentre se un prete fa un matto ecco amministra una cresima senza il permesso del vescovo fa un gravissimo peccato ma la cresima è valida ci sono alcune correnti dottrinali a mio avviso non del tutto in maniera ballerina che dicono che se tu confessi senza autorizzazione del vescovo e dopo l'esame che ti viene fatto per essere abilitata la confessione la confessione è invalida certamente è invalida la soluzione per i peccati riservati cioè l'esempio classico che si fa in questi casi è il peccato di aborto il peccato di aborto dal momento che chi commette il peccato di aborto incorre nella scomunica late sentenze non lo può assolvere un sacerdote a meno che non ne abbia la facoltà facoltà di assolvere direttamente da questo peccato ce l'hanno per esempio con certezza gli ordini mendicanti e gli era data direttamente il papa gli ordini esenti quindi se uno che ha fatto un aborto si confessa da un francescano da un domenicano da un agostiniano o da un carmenitano quello li può assolvere a meno che non sia cambiato qualcosa nella disciplina della chiesa che io ricordi il clero di Roma ha l'indulto quindi i preti della diocesi di Roma possono assolvere dal diritto di aborto i preti diocesani come me non possono quindi quando a me qualcuno mi confessa il diritto di aborto io non lo posso assolvere subito non c'è niente da fare perché devo contattare il vescovo e chiedere l'autorizzazione ad hoc per poter assolvere quel singolo penitente lo devo fare per forza se io mi azzardo se io mi azzardo ad assolverlo non è che quella confessione io faccio io peccato però basta che questo sia tranquillo e questa sia tranquilla l'assolvo subito no no la statuzione è completamente invalida è invalida non è illecita e quindi per questo che il concilio dell'antica ha detto se qualcuno dice che ci sono dei peccati che se qualcuno nega che alcuni peccati i vescovi possono riservarseli e che quindi nel caso che ci sia nel sacerdote che dovesse assolvere assolve invalidamente non illecitamente sia natema quindi questo è un articolo di fede in caso di un peccato riservato un sacerdote non dà validamente l'assoluzione quindi se qualcuno ha attenzione chi ha confessato il peccato d'aborto ecco perché purtroppo devo capitare un prete ecco se era un francescano ripeto un domenicano un carmenitano o un agostiniano stare tranquilli se era un prete può darsi anche non io non vorrei adesso creare allarmismi perché alcuni vescovi possono farlo per esempio che dicono ai loro preti vi do l'indulto di poter assolvere dal delitto d'aborto per esempio se non ricordo male il vescovo della mia diocesi ha detto poi non so se questo diventerà un operativo che era sua intenzione per il giubileo della misericordia di concedere ai sacerdoti di questa diocesi per tutta la durata dell'anno del giubileo di dare l'assoluzione ai delitti d'aborto se questo sarà vuol dire che nell'arco di quell'anno se qualcuno mi viene a confessare il diritto d'aborto io lo posso assolvere senza preventiva autorizzazione del vescovo ma terminato l'anno si ritorna alla disciplina precedente capite? ecco quindi un sacerdote che assolve un peccato riservato che ascolta un peccato riservato deve rimandare con carità il penitente e attendere l'autorizzazione prima di poterlo assolvere l'ultimissima cosa sulla potestà sacerdotale la potestà sacerdotale si basa sul potere delle chiavi che è quello di legare e sciogliere non solo sciogliere quindi quando il sacerdote ti impone una penitenza tu sei legato attenzione è l'esecuzione della penitenza sacramentale va fatta sotto pena di peccato mortale ecco fino a quando la penitenza si faceva prima dell'assoluzione cosa che è andata avanti per un certo periodo di tempo abbastanza lungo tutto il primo millennio è stata così cioè non è che tu ti confessavi venivi assolto e poi come adesso facevi la penitenza tu venivi confessato facevi la penitenza e poi venivi assolto ecco quindi eri realmente legato perché fino a quando non facevi tutta la penitenza la soluzione non ce l'avevi attenzione che adesso che si fa poco che si fa dopo la soluzione diciamo così che è immediatamente operativa quindi se tu c'è riuscito magari una penitenza anche che dura un mese puoi farla subito la comunione ma state attento però che la penitenza una volta che tu l'hai accettata perché te la dà sacerdote ma tu puoi se hai delle difficoltà dire padre però sta cosa forse non lo so ci riesco a farla magari me la cambi puoi chiedere in diretta la commutazione della penitenza una volta che l'accetti tu sei legato cioè se ti dice non so devi dire il rosario per un mese o per due e tu l'accetti tu tutti i giorni devi dire la corona del rosario e non essendo leggero di essere puntuale nell'adempimento di questa cosa fosse anche un'elemosina di 50 centesimi ma va fatta con assoluta puntualità perché non fare bene la penitenza imposta costituirebbe peccato mortale e chiaramente renderebbe anche se a posteriori sacrilega la confessione fatta bene detto questo il tempo a nostra disposizione vedo che arriva agli sgoccioli penso che possiamo chiudere il capitolo dedicato al sacramento della penitenza sperando che queste considerazioni abbiano concorso a fare un pochino di ulteriore chiarezza nell'ambito di questo delicatissimo argomento e soprattutto che producano in tutti coloro che l'hanno ascoltato frutti degni di conversione e se avessero fatto qualche confessione mal fatta ecco il proposito fermo di rimediare e di fare finalmente una buona e santa confessione possibilmente con un bravo capace e santo confessore do la mia benedizione a tutti appuntamento alla prossima settimana Ave Maria